Veniamo ora al quinto e importantissimo gruppo di alimenti che è costituito da frutta e verdura. Chiaramente si tratta di un gruppo di alimenti, l'unico gruppo di alimenti prevalentemente a funzione regolatrice, nel senso che si tratta di alimenti ricchi di vitamine, sali minerali e acqua, o uno di questi tre tipi di principio alimentare, o tutti e tre, possiamo dire. Noi ci nutriamo di molte parti dei vegetali, di alcuni mangiamo i frutti, e non parliamo soltanto di frutti dolci, ma per esempio anche pomodori, peperoni, melanzane, zucchine, sono, da un punto di vista botanico, dei frutti. Di altri vegetali invece mangiamo le foglie, sia crude come insalata, sia lessate. Di altri ancora, anche se è una situazione più rara, ad esempio la carota, noi mangiamo la radice. Per quanto riguarda i frutti e anche la verdura, si possono suddividere, in base al contenuto in principi alimentari dell'uno o dell'altro tipo, in più sottocategorie. Ad esempio, nell'ambito dei frutti, soprattutto dei frutti dolci, li possiamo distinguere in frutti ricchi di vitamina A e frutti ricchi di vitamina C. Per quanto riguarda i frutti ricchi di vitamina A, abbiamo detto che questa vitamina A può essere assunta in forma di carotene. Il nostro corpo la può poi produrre a partire dal carotene stesso. Quindi sono ricchi di vitamina A, ovvero di carotene, quei frutti che hanno la polpa gialla o arancione. Quindi non soltanto la carota, che è una radice, ma anche tutti quei frutti come le albicocche, come le pesche, dove la polpa presenta un colore di questo tipo. Per quanto invece riguarda i frutti ricchi di vitamina C, sappiamo che questi sono soprattutto gli agrumi, che hanno la polpa divisa a spicchi e la buccia ruvida in maniera caratteristica, quindi le arance, i limoni, i mandarini. Ricordiamo però che anche fragole e pomodori sono particolarmente ricchi di vitamina C. Poi esistono altri frutti, che sono soprattutto i frutti che presentano questi colori un po' rari, come il blu e il viola, e quindi parliamo soprattutto di frutti di bosco, come mirtilli, more, lamponi. Queste sostanze che danno a questi frutti questo colore piuttosto raro, queste tonalità tra il rosso, il blu e il viola, si chiamano antocianine ed è giusto citarle in quanto sono degli antiossidanti, ovvero sono dei protettivi, delle sostanze che proteggono le cellule dall'invecchiamento e dal danneggiamento, soprattutto a livello della membrana cellulare. Nell'immagine numero 3 noi vediamo invece degli ortaggi da foglia, che si consumano sia crudi come insalata oppure cotti. Spesso e volentieri mangiamo delle foglie di varie piante, come gli spinaci, come le bietole, lessati. Gli alimenti di questo tipo, i vegetali di questo tipo, non sono particolarmente ricchi di vitamine, ma sono piuttosto ricchi di sali minerali, anche se abbiamo già detto che questa, diciamo, credenza dell'elevato contenuto di ferro negli spinaci è in realtà poco più di una leggenda metropolitana. Già si è detto che questi ortaggi da foglia è bene mangiarli crudi in quanto il grosso dei principi nutritivi, soprattutto dei sali minerali, vengono altrimenti persi nell'acqua di cottura. Oltre a vitamine e sali minerali, anche l'acqua è un importante principio regolatore e non deve mai mancare. Non l'assumiamo solo bevendo, ma anche tramite i cibi, perché anche i cibi contengono una certa percentuale d'acqua. Esistono alcuni frutti che non hanno altri principi alimentari, ma che abbondano in acqua e sono soprattutto i frutti della famiglia delle cucurbitacee, che sono piante erbacee che producono di solito dei frutti di dimensioni molto grandi e formati per oltre un 90% di acqua. Parliamo di zucche, zucchine, angurie, meloni e cetrioli. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che tutta la frutta e soprattutto gli ortaggi, in particolare quelli da foglia, contengono la cosiddetta fibra alimentare, che è formato da un polisaccaride, la cellulosa, la quale è il costituente principale delle pareti delle cellule vegetali e questo zucchero complesso noi non lo possiamo digerire a differenza dell'amido, di conseguenza passa attraverso il tubo digerente senza essere toccato, però ha un suo ruolo nel, diciamo, aiutare l'intestino a compiere il suo lavoro. Schemi di questo tipo sono chiamati piramidi alimentari e ci danno un'idea della quantità relativa dei vari tipi di alimento che devono essere presenti in un'alimentazione igienica ed equilibrata. Alla base, quindi nei piani più larghi, troveremo gli alimenti che è importante assumere in grande quantità e, andando verso l'alto, dove quindi i piani della piramide si restringono, troviamo alimenti che è importante assumere in quantità via via inferiore. Alla base troviamo l'acqua, sia in forma libera, sia contenuta negli alimenti, sia in bevande di vario tipo, che è importante, diciamo, utilizzare e che non deve mancare mai all'interno del nostro corpo. Tolto ovviamente l'acqua, la cui presenza nella nostra dieta è scontata, alla base troviamo frutta e verdura. Quindi, come si vede già dallo schema della piramide, sono soprattutto gli alimenti vegetali o di origine vegetale che devono farla da padroni all'interno di una dieta equilibrata. Alla base troviamo frutta e verdura fresca, quindi quest'ultimo gruppo, frutta e ortaggi da foglia, bene, che è importante e che siano sempre presenti per l'apporto di vitamine e sali minerali. Andando più avanti troviamo gli alimenti di origine vegetale pieni di ricchi, insomma, scusate, di principi energetici, ovvero ricchi di amido, quindi anche pane, pasta, patate, non devono mai mancare. E qui troviamo anche i legumi che tra i vari alimenti di natura proteica pure possono essere presenti in quantità superiore rispetto alle proteine animali. Questo piano indicato in rosso io di solito lo divido in due parti. Metto in una metà del piano carne, pesce e uova, quindi gli alimenti a funzione plastica, e nell'altra metà il latte e i suoi derivati. Quindi, diciamo, ci sono i primi due gruppi di alimenti che si dividono a questo piano, formato quindi da scibi che devono essere presenti nella nostra dieta, ma in quantità non eccessivamente abbondante. Andando ancora verso la punta della piramide troviamo i grassi vegetali e animali, burro e oli di vario tipo, oltre a questa cosiddetta frutta secca, che in realtà sono dei semi, però particolarmente ricchi di grassi, quindi gli alimenti su questo piano giallo devono essere presenti in quantità ancora più ridotta. Su in cima troviamo invece degli alimenti di cui purtroppo facciamo abuso, ma che in realtà non dovrebbero essere presenti per niente. Sono tutti i prodotti confezionati, i dolciumi, le bibite gassate e questi snack confezionati che sono particolarmente ricchi di gas, che sono particolarmente ricchi di grassi, soprattutto di origine animale, e che sono dei prodotti industriali i quali, diciamo, in linea di principio non dovrebbero proprio essere presenti oppure in quantità minima soltanto per togliersi una golosità ogni tanto in una dieta equilibrata.